Oggi ho preparato una specie di caso studio, una specie di scalata, una scala che voglio mostrarti di come portare qualunque azienda e come ho portato io qualunque azienda da zero a 100.000 euro al mese in 90 giorni senza capitali e partendo completamente da zero. Quindi vi spiegherò esattamente cosa devi fare in ogni step, quindi cosa devi fare per raggiungere proprio i 10.000, 50.000 e poi 100.000 euro al mese e vado a spiegarti la situazione in cui sei ad ogni livello e soprattutto i problemi che devi risolvere per salire di livello nella scala.